Ben trovati da Mirko Minardi, oggi parliamo di un argomento di grande spessore giuridico, il fascicoletto, il fascicoletto che si deve produrre al momento del deposito del ricorso per Cassazione. Partiamo da un riferimento normativo, articolo 369, secondo comma numero 4. Che cosa stabilisce? Stabilisce che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve depositare anche gli atti processuali, i documenti e i contratti accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Che cosa facevano gli avvocati fino a qualche tempo fa? Semplicemente si limitavano a produrre i fascicoli di primo e di secondo grado. Poi è intervenuto il protocollo nel dicembre del 2015, protocollo che è stato siglato dal primo presidente della Corte di Cassazione e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense che ha previsto la possibilità, l'onere, vabbè comunque la possibilità di depositare un fascicoletto. Questo fascicoletto che cosa contiene? Contiene appunto solamente gli atti, i documenti richiamati nei motivi di impugnazione. Un errore che vedo frequentemente fare è quello di iniziare da Adamo ed Eva e quindi nell'esposizione sommaria del fatto si fa riferimento all'atto di citazione, ecco che l'atto di citazione diventa il documento numero uno. Si costituiva in data il convenuto con comparsa di costituzione e risposta, ecco che la comparsa diventa il numero due e così via. Tutto questo assolutamente non serve. La Corte di Cassazione eccezionalmente va ad esaminare gli atti processuali e i documenti e questo solo quando questo esame è necessario per poter stabilire se il ricorso è fondato o non è fondato o addirittura se è procedibile o non è procedibile. Quindi tutto questo non serve. Il fascicoletto, infatti non si fa il fascicolo o il fascicolone, si chiama il fascicoletto, contiene quindi soltanto gli atti documenti di cui parla l'articolo 369 secondo comma numero 4. Possiamo dire che producendo il fascicoletto non abbiamo più gli oneri di trascrizione quindi come dire il principio di autosufficienza sia attenuato? La risposta è no perché esiste un orientamento che continua ad affermare la necessità che quando si faccia riferimento al contenuto di un atto, al contenuto di un documento, al contenuto di un verbale si debba necessariamente procedere con la trascrizione e non con il riassunto. Quindi facciamo un esempio, mi lamento del fatto che la Corte d'Appello non ha esaminato un mio motivo di impugnazione. Che cosa dovrò fare? Dovrò innanzitutto riportare la razio decidendi del Tribunale che ha emesso la decisione di primo grado, dopodiché dovrò trascrivere il motivo di impugnazione e quindi allegare e dimostrare che la Corte d'Appello non ha esaminato il mio motivo di impugnazione. Non è sufficiente dire la Corte d'Appello non ha esaminato il motivo di impugnazione con cui veniva denunciata il nesso di causalità, la ricostruzione dell'esistenza del nesso di causalità. Ecco una cosa del genere non è possibile, bisogna proprio riportare parola per parola il motivo di impugnazione. Quindi è rimasta la trascrizione, comeppure sono rimasti gli oneri di localizzazione interna e localizzazione esterna. Che cosa significa assolvere agli obblighi di localizzazione interna ed esterna? Significa sostanzialmente che quando citiamo ad esempio una clausola contrattuale, se queste clausole sono numerate dovremmo dire la clausola numero 13 del contratto. Se citiamo un motivo inserito nell'atto d'appello dovremmo dire a pagina 13 l'appellante formulava il seguente testuale motivo di impugnazione. Questo quindi è, questa è la localizzazione interna. Poi abbiamo la localizzazione esterna. Innanzitutto dobbiamo specificare, soprattutto quando si tratta di documenti, quando il documento era stato prodotto. Quindi era stato prodotto unitamente alla seconda memoria ex articolo 183, dovremmo appunto specificare questo fatto. Era stato prodotto al momento della Costituzione, diremo era stato il documento, era stato prodotto al momento della Costituzione. Che numero aveva quando ci siamo costituiti? Aveva il numero 12 per esempio e quindi diremo il documento era stato prodotto al momento della Costituzione come documento numero 12. Bene, perfetto. Dove si trova il documento? Quindi diremo si trova all'interno del fascicolo di primo grado che verrà prodotto al momento del deposito oppure si trova all'interno del fascicolo d'appello che verrà prodotto al momento del deposito. Voi dovete sempre pensare alle condizioni in cui lavorano i giudici della Corte di Cassazione. Non dovete immaginare che il giorno della Camera di Consiglio ci sia il nostro bel fascicolo con il fascicolo di primo grado, il fascicolo di secondo grado eccetera. La Corte decide su quelle che si chiamano le carte regolamentari che sono il ricorso, il contro ricorso e la sentenza. E naturalmente oggi abbiamo anche i documenti prodotti nel fascicoletto. Per la verità si tratta, almeno per quanto mi riguarda, di una doppia copia perché io inserisco gli atti documenti all'interno del fascicolo che chiameremo della Cassazione, in cui c'è il ricorso originale, la procura e tutto il resto. E in più li produco anche in un fascicoletto a parte per il relatore. Perché, l'ho già detto in un altro video, dovete sapere che il ricorso verrà letto dal presidente e dal relatore. Quindi avere una doppia copia è certamente utile. Bene, per oggi mi fermo qui. Spero sia stato di vostro aiuto. Un caro saluto da Mirko Minardi.